buongiorno buongiorno a tutti amici del canale dal vostro nick juve il titolo di oggi è più 15 puntini sospensivi perché prima di parlare della partita di ieri sera vorrei un attimino dedicare qualche secondo a quello che è stato il comunicato di ieri no in tanti li ho visti esultare degli amici juventini gobbi però sappiamo benissimo che dobbiamo e possiamo esultare a metà perché quindi questi 15 punti sono stati parzialmente ridati quindi la classifica adesso è aggiornata con i 59 punti siamo terzi in campionato ma devono per l'ultimo grado di giudizio in corte d'appello ancora una volta mentre avevano prima due opzioni come vi dicevo ieri di annullare completamente la sentenza dei 15 punti quindi la penalizzazione o di confermare quelli che per loro erano i 15 punti giustamente hanno deciso bene di mandarla a revoca mandarla diciamo ad analizzare ulteriormente per capire cosa bisogna fare o meno quindi come vi dicevo ieri quando dicevo che la barzelletta ancora non è finita ovviamente adesso mancano otto partite alla fine del campionato si prenderanno circa 30 giorni per decidere e secondo me ma non è tanto una battuta perché quello che andranno a fare si giustamente baseranno su quella che la classifica fra 30 giorni che ci sarà nel campionato italiano e dopo secondo me per non fare la figura di merda perché ovviamente non possono far vedere che i 15 punti che avevano dato prima colleghi avvocati e magistrati erano completamente sbagliati no sarebbe come gettarsi la la cacca in faccia devono dare ecco una devono ristabilire quale potrebbe essere una quota giusta corretta da infliggere non così elevata come i 15 punti ma secondo me secondo me osserveranno bene la posizione di qualche club di milano per poi decidere se dare meno 7 meno 6 meno 8 quindi ragazzi esultiamo ma esultiamo a metà esultiamo a metà vorrei solo fare una piccola postilla e da stamane mattina che ascolto il radio ho visto qualche sito eccetera eccetera e qualcuno delle radio si è permesso anche di fare una specie di siete d'accordo o no su questa nostra affermazione cioè recitava un po così è stato corretto ridare questi 15 punti alla juventus secondo voi non è un campionato falsato cioè vi chiedo scusa il campionato è falsato perché hanno ridato i 15 punti alla juventus cioè non riesco a capire questo o il campionato è stato falsato perché hanno tolto i 15 punti alla juventus nel ben mezzo del campionato il 20 di gennaio circa quindi tre mesi tre mesi ci avete fatto giocare con siete a 30 35 a 26 a 28 a 40 a meno 12 quattordicesimi in classifica io devo vedere che fate gli hashtag alcune radio e alcune emittenti televisive hashtag secondo voi è stato corretto restituire i punti alla juve quei punti li abbiamo fatti sul campo è stato corretto restituire cosa ma veramente vi siete bevuti il cervello ma ve lo siete bevuti alla grande c'è una cosa assurda sì il campionato falsato perché l'unica che poteva andare dietro al napoli era la juventus e gravine company lo sapevano benissimo quindi sì è stato falsato perché la prima è scappata senza nessun ostacolo dietro perché con un ostacolo dietro come la juve non lo so se sarebbe scappata così come ha fatto detto questo perché ormai è penoso è penoso da stamattina parlano solo della roma che ha passato il turno bravi complimenti ma non si parla della juve per fare cosa per non dare pubblicità perché quando vi conviene la juventus la menzionate la nominate quando c'è da sbatterla sugli articoli di giornale o in prima pagina o nelle emittenti televisive è il primo argomento che vi viene in mente lì vi va bene lì vi fa vendere copie dei giornali lì vi fa aumentare gli ascolti alle televisioni complimenti ma ve l'ho detto già ieri a me dell'europa league o della coppa italia non me ne importa niente non me ne frega un cazzo le andassero a regalare a chi cazzo ha stabilito ceferin e a chi ha stabilito gravina che io dei contentini così come stanno facendo in champions per aiutare le milanesi non ne abbiamo di bisogno 72 trofei in bacheca sai che cazzo mi frega di uno o due regalati che oggi leggevo alcuni post il campionato italiano unico cinque squadre per l'europa gli altri completamente al di sotto specchietto per le allodole fumo negli occhi che abbiamo il campionato quasi quasi al pari di quello inglese il campionato è una porcheria è una porcheria atomica fa qua da tutte le parti non c'è niente partita di ieri la partita di ieri sono solo un soddisfatto del passaggio del turno ma non di quello che ho visto perché veramente anche ieri propositività zero propositività zero vlaovic niente non riesce in nessun modo a far nulla io non so più che pensare è un secondo tempo in cui non si è fatto mezzo dire in porta se non quella specie di svarione di chiesa su assist di milic ma o di la o di di maria quando ha fatto l'assist per quadrato ma ragazzi non si può non si può così adesso ci sarà il siviglia che ha eliminato l'oliminato con cinque gol tra andate e ritorno ma per me è una partita molto 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 complicata non non te la puoi giocare così nella maniera più assoluta assolutamente ragazzi è improbabile impensabile improponibile un discorso simile dove non ci sono stati due tre minuti due tre minuti in cui ho visto avere palla noi mantenere quantomeno il possesso palla per non rischiare l'attacco dello sport in lisbona attacchi che negli ultimi cinque dieci minuti sono stati a percussione cioè ha avuto soprattutto negli ultimi cinque minuti un'azione davanti alla porta il calciatore del coates se non ricordo male dello sporting assurdo che si è completamente divorato non è possibile così ragazzi c'è qualcosa da rettificare una ottima organizzazione difensiva un saper soffrire come pochi ma questo l'abbiamo sempre avuto nelle corde nel nostro dna ma ci vuole un po più di serenità un po più di giocate un po più di cercare la giocata un po più di personalità nei calciatori in campo per tentare la giocata tentare lo scambio 12 il tiro da fuori tiro da fuori che non vedo non lo so da mesi da un anno da un anno e mezzo ragazzi like anche a questo video mi raccomando iscrizione al canale condividete in tanti continuate a seguirmi e continuate a farmi crescere un saluto dal vostro nick juve un grosso abbraccio e al prossimo video ciao applausi 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 applausi